Ciao io sono Sami, da Fosysi Accademia, in questo video, vi mostrerò come risolvere, messaggio di errore di Windows, bot MGR manca, premere CTRL più alt più canche per riavviare, questo errore indica che il settore di avvio è, danneggiato o mancante. Se il problema non è legato a componenti hardware, è possibile risolvere il problema, con relativa facilità, fino a quando si dispone di un DVD di Windows a portata di mano. Impostazione del BIOS Per caricare dall'unità CD prima, la maggior parte dei PC usano il F10 e SC o dell'F2 per avviare il setup del BIOS. Se vuoi inserire una scheda nella, BIOS Setup Utility, che è etichettato, stivale ordine, opzioni di avvio o di avvio. Seguire le istruzioni sullo schermo, che non è esattamente quello che hai. Eseguire ripristino all'avvio Da Windows Recovery Environment Inserire il disco di installazione di Windows nell'unità disco, e quindi avviare il computer. Premere un tasto Quando il messaggio, premere un tasto per avviare da CD o DVD appare, di Windows sta caricando i file. Appare il monitor blu Selezionare la lingua, un tempo e una moneta, un metodo di tastiera o di input, e quindi fare clic su Avanti, fare clic su Ripristina il computer. Nella finestra di dialogo opzioni Ripristino di sistema, selezionare l'unità della vostra installazione di Windows, e quindi fare clic su Avanti. Nella finestra di dialogo opzioni Ripristino di sistema, fare clic su Ripristina il computer, fare clic sul sistema operativo, che si desidera ripristinare e quindi fare clic su Avanti. Nella finestra di dialogo opzioni Ripristino di sistema, fare clic su Ripristino all'avvio, Riparazione di avvio, Pop-up, e sta controllando il sistema. Se hai problemi dopo aver terminato chiedendo, per riavviare il computer, per completare le riparazioni, quindi fare clic su Fine, non premere alcun tasto altrimenti l'avvio da CD, appaiono le finestre di partenza. Spero che queste informazioni siano utili, grazie per l'osservazione. Fosisi Accademia, si prega di come, iscriviti, condividere questo video, e visitare il nostro sito web, FosisiAccademia.com